Ciao a tutti e benvenuti a Nego Kuraku quest'oggi vi farò vedere alcune opere precisamente sono 5 opere tutte le opere che vi farò vedere in questo video sono scontate del 25% fino al 25 settembre su Amazon passando dai link che vi lascio qui sotto tutte le opere che vi faccio vedere in questo video e non solo perché tutto il catalogo Baopublishing tutto il catalogo Edizioni BD così come anche il reale Cosmo se non sbaglio e alcune cose della Goen sono tutte scontate del 25% potete trovarle su Amazon cliccando sui link che vi lascio qui sotto di una di queste opere partiamo subito con due tra quelle che erano le opere che attendevo di più ovvero la prima è Paper Girl di Brian K. Vaughan che è l'autore di Y, l'ultimo uomo saga quindi uno sceneggiatore straordinario con i disegni di Cliff Chang Cliff Chang altri non è se non il creatore del logo della Baopublishing questo qui Cliff che è proprio prende il nome da dallo stesso autore e non avevo mai letto niente di suo di Brian Vaughan sì ovviamente sia Saga che Y, l'ultimo uomo lo conoscevo già come uno sceneggiatore straordinario e questa serie non sembra fare eccezione una serie che si svolge negli anni 80 in un clima molto da Goonies molto anche attualmente Stranger Things prende molto da quel mood da quel tipo molto particolare di cinema di letteratura i Goonies Stand By Me tutti i film che hanno fatto emozionare chi come me alla fine anni 80 aveva 4, 5, 6 anni e questo parla di alcune ragazzine che sono come dice il titolo delle ragazze che consegnano i giornali a un certo punto la loro strana già di per sé routine perché non molte le ragazzine di 11-12 anni che sono appunto a consegnare giornali verrà sconvolta dalla visione di questi tizi non meglio all'inizio ovviamente precisati che ruberanno i walkie talkie di una di loro una delle cose più preziose che la ragazza ha avendoci speso buona parte delle sue paghette e ovviamente da lì in poi essendo questa una saga anche fantascientifica sarà tutto un susseguirsi di eventi straordinari le ragazze troveranno questa strana macchina all'inizio pensando che sia uno scherzo chi dice che è un alieno e chi quant'altro però sarà quello all'inizio di tutta l'avventura di queste ragazze che si troveranno poi catapultate in qualcosa ovviamente più grande di loro per questo primo volume intanto un'ottima sceneggiatura di Vaughan che rende tutto complicato ma facile e lineare al tempo stesso e mi piacciono molto anche i disegni di Cliff Chang un'altra dei miei autori preferiti è Terry Moore l'autore di Stranger in Paradise di cui avevo già fatto una recensione e proprio dall'universo di Stranger in Paradise viene Seep Kids Stranger in Paradise Kids appunto un'opera molto carina con i personaggi che abbiamo amato in Stranger in Paradise catapultati in un mondo come se si fossero conosciuti da bambini a differenza quindi di quanto successo nella saga originale e quindi un divertissement per quanto riguarda Terry Moore che si è appunto divertito a disegnare i personaggi della sua saga più famosa quando erano bambini molto puccioso come volume come disegni mi è piaciuto ma anche se ovviamente non ha niente a che vedere con la saga principale e mi è piaciuto molto anche La principessa spaventa passeri di Federico Rossi e Drighi che fa parte della collana Babau livello 3 quindi sarebbe per ragazzi da 12 anni in su ovviamente avendo io quell'età mentale non ho nessun problema a leggere questo tipo di opere e questo parla di una ragazzina che è figlia di una madre che insieme al fratello della ragazzina scrive dei libri horror gialli e si trasferiscono in una nuova città come fanno molto spesso per cercare l'ambientazione dei loro romanzi che sono sempre ispirati da un incipit di storia vera e però quello che la ragazzina una 14enne abbastanza ancora svogliata che sta appena per scoprire il mondo quello che lei non sa è che questa volta sarà lei la protagonista dell'avventura in un modo che ovviamente non vi dico come ma se non appunto che come vi ho già detto sarà lei a vivere una vera avventura sulla propria pelle quindi molto carino e consigliatissimo se volete fare ad esempio un regalo ad un vostro cugino ad un vostro nipote ad un vostro amico che ha su 10 11 12 anni e fino a 20 e passa chiaramente è piaciuto a me che tra un po' prendo la pensione quindi figuratevi può piacere a chiunque e potete fargli un regalo in questa occasione poi essendo anche scontato al 25% è un'occasione veramente ottima mentre per quanto riguarda la edizione BD mi è piaciuto davvero molto la stupefacente incredibile la fantastica vita di Stan Lee che è il praticamente il creatore di buona parte di personaggi della Marvel Comics quindi un caposaldo della storia dei supereroi americani a me i supereroi non interessano minimamente ma ciò nonostante questa biografia mi è piaciuta davvero molto è scritta in maniera molto appassionante da Stan Lee insieme a Peter David e Colin Doran e nonostante l'unica cosa che mi stia un po' antipatica magari Stan Lee racconta le cose in modo un po' superbo credendosi effettivamente quasi un dio però non gli si può dare neanche così torto effettivamente nel mondo dei fumetti è un personaggio che è riuscito addirittura a creare per la DC Comics una serie che gli è stata proposta dalla DC ovvero se Stan Lee avesse immaginato i personaggi della DC Comics come sarebbero venuti con Aquaman se non sbaglio l'avranno fatto con Batman e anche altri fumetti quindi una cosa fino ad allora impensabile e qui racconta appunto come è nato l'impero della della Marvel Comics proprio maggiormente grazie a Stan Lee e l'ultimo volume per l'edizione BD è Signal to Noise di Neil Gaiman con i disegni splendidi di Dave McKean che è davvero visionario almeno quanto Gaiman quindi i due si sono senz'altro trovati bene in questa collaborazione che poi è sfociata anche in altre opere scritte a quattro mani dai due parla di un regista a cui viene diagnosticato il cancro e quindi vive questi ultimi giorni di vita cercando di trovare un senso proprio agli ultimi giorni della sua vita contando anche il fatto che stava appunto per terminare di scrivere il suo film diciamo il film capolavoro appunto della sua storia quindi vedremo come questo come questa notizia tragica impatterà proprio sul sul suo voler continuare o meno a scrivere questo film per questo video è tutto erano pochi volumi però molto molto validi tutti veramente vi ricordo il link qui sotto per comprarli al 25% scontati su Amazon condividete il video per se vi è piaciuto pubblicatelo su Facebook Google Plus Twitter dovunque vogliate commentatelo qui sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao